Playoff e ripescaggi, due facce della stessa medaglia per le pugliesi di Serie D, il Taranto più del Nardò, che affollano i pensieri della post-season. Andare avanti nei playoff per guadagnare posizioni in classifica di merito dei ripescaggi in Lega Pro, equazione che comincerà ad avere i primi riscontri sul campo da domenica 22 maggio. E' quella la data da cerchiare per le semifinali in gara secca. Il Taranto ha dalla sua il fattore campo ed il miglior piazzamento da far valere contro il Fondi, formazione che avrebbe dovuto dominare la stagione e resta una mina vagante negli spareggi. Ruolo che potrebbe ritagliarsi anche il Nardò di Nicola Ragno. Il quarto posto finale obbliga i Neretini a vincere sul campo del Francavilla in Zinni, ma resta un risultato complessivamente positivo per la squadra rivoluzionata con il mercato invernale e rimasta in lotta per il primato, sino a tre giornate dal termine della stagione regolare. Il fattore campo e il miglior piazzamento saranno le armi in più che il Sansevero farà valere nello spareggio salvezza, in programma anche questo il 22 maggio, contro la Serpentara. Chi perde, ma i dauni possono accontentarsi anche del pareggio dopo i supplementari, completerà il quartetto di retrocesse in eccellenza, dove la Puglia con il Gallipoli e il Lazio con l'Aprilia sono già rappresentate. La domenica di riposo toccherà anche alla Virtus Francavilla, che in vista della Lega Pro e la possibilità di dover emigrare per le prime settimane, in attesa che il suo impianto venga adeguato, proverà ad onorare la Puls Cudetto. Il primo ostacolo è quello del triangolare con Siracusa e Viterbese. I siciliani potrebbero essere gli avversari in casa nella seconda giornata, se non dovessero vincere la sfida di domenica. I laziali, tanto per cambiare, verrebbero affrontati in trasferta in caso di sconfitta degli stessi nel primo turno. Non ci sono impegni supplementari per Biceglie e Manfredonia, almeno sul campo. Le due società, dopo la salvezza, cominciano l'altra partita per garantirsi il futuro. A Biceglie, dopo le dimissioni del presidente Ingrosso, comincerà la corsa contro il tempo per conservare il titolo in Serie D. A Manfredonia si aspettano nuovi soci, ma con una certezza annunciata dal sindaco Angelo Riccardi. La società Energas non sarà la benvenuta.